La regola delle tre C. Allora, non la trovi assolutamente in nessun libro di testo, non è un'evidenza scientifica, è semplicemente un mio stile di vita sportivo che mi sento di condividere con te. Magari c'è qualcosa fra queste mie definizioni che potrebbero essere utili anche a te. Vediamo di che cosa si tratta. La prima regola, la prima C, rappresenta la continuità. Che tu voglia ottenere come obiettivo finale il benessere fisico, che tu voglia avere un effetto dimagrante, che tu voglia essere prestativo, non importa, ma quello che è determinante è avere una continuità nei tuoi allenamenti che ti debbano garantire almeno dalle due o più sedute settimanali per avere quel minimo sindacale per poter provocare quegli effetti benefici allenanti sul tuo corpo. La continuità è assolutamente una regola base che non può mancare nel tuo ruolino di marcia. La seconda C, convinzione. Convinzione in quello che stai facendo. Se sei seguito da un programma di allenamento, da un personal trainer, la cosa più importante è che tu sia realmente convinto in quello che stai facendo, nel tuo percorso allenante. Se lo sei, migliora sicuramente anche la tua autostima e quando la tua autostima è piuttosto elevata, è piuttosto alta, di sicuro non ti ferma assolutamente più nessuno. La terza C, la terza regola, si divide in due segmenti. Il primo è di tipo funzionale. Per avere un buon mantenimento di questa regola, di questo organo, perché è di questo che stiamo parlando, devi avere uno stile di vita alimentare sano, devi essere continuativo nei tuoi allenamenti e devi essere convinto appunto in quello che stai facendo nel tuo percorso sportivo. E la seconda parte ha una ragione un po' più sentimentale, un po' più romantica. Vale a dire, serve la passione, serve il trasporto che passa attraverso a che cosa? A questa definizione, il cuore. È un elemento fondamentale, appunto, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista passionale. Perché in qualsiasi cosa tu voglia fare, se non ci metti il cuore, se non ci metti una buona parte del tuo cuore, della tua passione, non si va da nessuna parte. Tre regole fondamentali, continuità, convinzione e tanto cuore. Ciao a tutti amici sportivi!